Un finto cieco di 77 anni della provincia di Bari è stato scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza per aver percepito indenità di invalidità civile e di accompagnamento per nove anni perché affetto da cicità assoluta. Nel periodo doveva incassato indebitamente dall'Inps 135.000 euro, 53.000 dei quali gli sono stati sequestrati. I finanzieri hanno scoperto che l'anziano si muoveva in modo autonomo e con disivoltura, usciva di casa, passeggiava da solo, faceva acquisti nei negozi, scegliendo con curi i prodotti che pagava controllando l'esattezza del resto. In un'occasione è stato filmato mentre fornì indicazioni a un passante su un itinerario da percorrere.